Ciao, sono Luca di Mister Gadget, benvenuto ad un'altra delle presentazioni in cui vi portiamo i prodotti più interessanti in arrivo sul mercato. Questo in particolare nella fascia da 199 euro, ma online lo si trova già anche ad un prezzo inferiore. Parlo della versione 2017 di LG K10. Vediamo come si comporta nella vita di tutti i giorni. Ciao amici di Mister Gadget, eccoci ad affrontare un prodotto della linea K che rinnova essenzialmente il portfoglio di prodotti low cost di LG. Questo in particolare si trova ufficialmente a 199 euro, ma online si trova già a 160 euro. Vi faccio vedere prima la parte posteriore, per questa strana combinazione originale, combinazione tra il colore rame nella parte inferiore e il nero invece della cover. Tra l'altro nero con questo motivo che sembra spazzolato, in realtà al tatto poi risulta assolutamente liscio. Pulsante di accensione in questa zona con la fotocamera posteriore da 13 megapixel che caratterizza il design della parte posteriore del telefono. Nella parte frontale invece il display, quello da 5,3 pollici che caratterizza, insomma, dalla dimensione del telefono. Tra l'altro con delle cornici abbastanza generose perché la superficie del display è solo il 69,2% della superficie totale. Tra l'altro è 5,3 pollici, ma vedete che avete i tasti a schermo. Peraltro una delle cose curiose è che questo display, pur essendo molto leggibile, pur essendo molto gradevole, ha una luminosità piuttosto contenuta. Nel senso che è più luminoso quasi nelle riprese che nella presa diretta, quella dell'occhio. Però bisogna dire che pur essendo un display che non ha una risoluzione elevatissima, 720x1280 pixel, è un IPS LCD, nonostante questo devo dire che la luminosità, la leggibilità è buona e anche tutto sommato, vedete, la possibilità di leggerlo con un'angolazione un po' strana, è comunque conservata. Una delle caratteristiche fondamentali di questo telefono è il fatto che a bordo ci sia Android 7.0. Avete una buona dotazione del software, vado passo passo per mostrare essenzialmente quello che offre questo telefono. Pulsanti a sferamento anteriore vi permette di personalizzare i pulsanti che volete mettere essenzialmente a disposizione sul vostro telefono. Vedete che volendo potete aggiungere anche alcuni comandi per attivare la barra delle notifiche, Capture Plus oppure Cue Slide. Questa è un'anticipazione in pratica rispetto a una delle funzioni di Android O che permetterà di aggiungere comandi alla barra inferiore. Poi oltre a questo vedete la possibilità di migliorare la leggibilità, di aumentare la dimensione del vostro testo. E poi vi faccio notare tra le caratteristiche che trovate di questo telefono c'è anche il fatto che ci possa essere l'aggiunta di, vi faccio vedere anche come, di alcune funzionalità a pulsante spento. Premendo due volte il tasto volume quando il telefono è spento potete attivare Capture Plus, premendo due volte il volume in basso attivate invece la fotocamera. A proposito di fotocamere, allora ci sono due caratteristiche fondamentali. La parte posteriore è fotocamera da 13 megapixel con apertura 2.2, con autofocus, con un sensore da un terzo di pollice e tra l'altro con una buona dimensione anche dei pixel, cioè 1,12 micron. C'è anche Face Detection tra l'altro nel sistema di messa a fuoco. Fotocamera frontale invece, questa ve la faccio vedere perché ha una caratteristica importante. Vedete questi due pulsanti che trovate nella parte anteriore, vi ricordano qualcosa? Probabilmente la gestione della fotocamera anche del G5 e che prestissimo sarà anche la gestione della fotocamera del G6 perché, vedete, potete governare l'apertura della ripresa del vostro telefono con la fotocamera frontale. Perché essenzialmente avete un angolo ingrandito fino a 120 gradi. Fotocamera di buona qualità, tempo di messa a fuoco, vedete, è semplicemente pari a zero, tempo di scatto e di memorizzazione quindi veramente brevissimo. Quando avete scattato una fotografia avete questo menu nascosto della fotocamera che vi permette di condividerla in tempo reale. Se volete, tra l'altro, avete la possibilità di attivare questi filtri per le vostre fotografie oppure di controllare alcuni dei settaggi, ad esempio se volete la foto in 4 terzi o in 16 noni, se volete l'HDR, se volete le griglie, il tag della vostra posizione e altri dettagli di questo genere. Un suono quando il fuoco è bloccato e uno scatto ovviamente per completare la cattura della vostra immagine. Allora, a bordo diverse soluzioni interessanti, faccio notare che c'è la radio FM a bordo del K10 2017, abbiamo già visto anche invece il Capture Plus, un'altra delle caratteristiche tipiche dei prodotti di LG che trovate a bordo di questo oggetto. E poi, vediamo un attimo anche come si comporta il browser. Allora, questo smartphone ha un processore Mediatek, un octa-core di, diciamo, discreto livello, che forse ogni tanto paga in alcuni utilizzi la dotazione di soli 2 GB di RAM. Questo, secondo me, è forse il limite più grosso di questo oggetto. Poi c'è un'altra curiosità, il fatto che i modelli americani segnalino la presenza del sensore di impronte digitali sulla parte posteriore, che in realtà non esiste nel modello in arrivo da noi in Italia. La dotazione è da 16 GB, avete visto insomma il funzionamento anche del browser, comunque discreto, diciamo, dotazione da 16 GB con 2 GB di RAM, come vi ho detto, è una batteria da 2800 mAh, così a naso, vi direi, la stessa identica batteria che c'era a bordo del LG G5. Sentiamo anche l'audio. A bordo, l'audio, vedete, è qui nella parte posteriore, essenzialmente un volume discretamente alto, ma una tonalità assolutamente mediosa, per cui sembra di ascoltare un citofono. Onestamente vi devo dire la verità, non è che mi faccia impazzire. Avendo Android 7.0 a bordo, avete invece lo split screen a disposizione, no? Che vedete il multi-window, come viene chiamato ufficialmente da Android, vedete che vi dà la possibilità essenzialmente di dividere la vostra schermata nel modo che più vi aggrada per vedere più applicazioni allo stesso tempo sul vostro display. Nel complesso abbiamo visto, insomma, un aspetto per quanto riguarda il design abbastanza minimale, brichiamo un po' anche il design di LG G5, se volete, volume rocker, dunque controllo del volume in questa posizione, la parte inferiore con l'attacco, un micro USB a bordo di questo telefono, poi l'attacco per le cuffie, abbiamo visto che l'altoparlante invece è in posizione posteriore, una delle caratteristiche principali, secondo me, di K10 2017 è il fatto che la batteria sia rimovibile. Avete nano SIM e micro SD a vostra disposizione, non è però dual SIM. È un oggetto, secondo me, interessante tutto sommato, è un oggetto che si comporta abbastanza bene dal punto di vista del funzionamento. Diciamo che io lo trovo tutto sommato senza infami e senza lode, nel senso che non spicca per qualche cosa in particolare, ma non c'è nemmeno nessun difetto principale, per il prezzo a cui è proposto di 100, 99 euro, che poi online trovate già a 160, secondo me è un prodotto comunque discreto. Bisognerà capire come si comporta rispetto a molti competitors super aggressivi che offrono caratteristiche tecniche sicuramente più aggressive ad un prezzo praticamente identico. Grazie per la visione!